Chiedo scusa se non posso essere presente a questa riunione, ma i sindaci non dispongono della loro libertà perché hanno molte volte impedimenti improvvisi e insuperabili, però questo non mi esime da portare il mio saluto a questo incontro e soprattutto a portare la mia adesione a questa manifestazione e ciò che sottende questa manifestazione, cioè la ricomposizione di una rete tra città e tra soggetti che operano in campo culturale e la costruzione di un'alleanza, un'alleanza che non deve essere ovviamente soltanto salottiera ma che deve essere operativa.